continua con il terzo episodio il viaggio dell'ultra runner paolo venturini negli stati uniti quale stato del new england scopriremo oggi stefano ghisolfi ci accoglie a casa sua per mostrarci come si allena un climber professionista siamo a monte grotto nella piscina più profonda del mondo dove atleti che nulla hanno a che vedere con l'acqua si sottopongono ad una serie di test fisico medici 21 chilometri tra spiaggia e pineta di cervia e milano marittima attraversando tre diverse tipologie di superfici asfalto sterrato e sabbia